In collaborazione con Panerai Classic Yots Challenge Ci ho quasi preso gusto ma non è assolutamente il mio mestiere anche se da piacere, da gusto, levigare un dugboard in carbonio pinna stabilizzatrice per le barche da competizione In questa puntata di The Boats Show parliamo di racing non c'è una marina alle nostre spalle ma tanta tecnologia che stimola la curiosità come vengono fatte le barche più veloci del mondo? In collaborazione con Volvo Penta Amici di The Boats Show ben ritrovati non siamo in una marina beh, lo vedete, alle mie spalle non c'è il mare ma attenzione perché in questa puntata parliamo di tecnologia siamo a Nembro in provincia di Bergamo in un cantiere nautico dove viene lavorato il carbonio dunque siamo curiosi di capire cosa succede, come vengono realizzati i componenti che poi equipaggiano le barche dell'America's Cup, della Volvo Chair Race anche del Vende Globe oggi parleremo di fibra di carbonio, di autoclave, di forni insomma quella che è la tecnologia che è alle spalle delle competizioni più estreme del mondo eccedenza italiana Persico, il core business è nell'automotive dove facciamo stampi e impianti per rivestire gli interni dell'abitacolo per cui il pannello porta, la plancia, il padiglione, tutto quello che si vede che rende nobile l'abitacolo noi facciamo stampi e impianti, non i pezzi, quindi le attrezzature per loro e poi la nautica è nata un po' quasi per caso nel 2000 nel senso che mio padre, conoscendo un responsabile di produzione di cantieri Riva di allora essendo qua vicino, 20 minuti di macchina da noi e si stupiva che gli stampi venissero fatti ancora col maestro Dasha, fatti a mano, in legno allora abbiamo preso una fresa da 25 metri per realizzare gli stampi fatti a controllo numerico per le barche nel tempo Moro di Venezia, che sono venuti a fare la chiglia, il bulbo nel 94, giù di lì Luna Rossa, sicuramente ha creato la storia per noi del racing, l'abbiamo creato grazie a Luna Rossa Abu Dhabi, Volvo Sun Race, Volvo 70, è stata la prima barca completa uscita dal cantiere Persico e poi vabbè, Land Rover Bar, di cui abbiamo finito adesso spedendo l'ultimo set di Foil il 10 maggio con un Antonov che è partito apposto da qua per andare alle Bermuda e poi direi adesso l'Ualli 100 che mettiamo in acqua tra un mese, anche questo è un'esperienza, un lavoro di due anni che iniziamo, vediamo la luce adesso Vista la dimensione e l'inclinazione potrebbe sembrare uno scivolo molto moderno in realtà questo è uno stampo di un foil Ugo Boss, il Mokka 60, l'abbiamo vista questa barca in azione tantissime volte qui vengono posizionate, lo dico in maniera semplice le diverse fibre di carbonio intrecciate sulla base dell'elasticità che il progettista vuole ottenere poi vengono posizionate nel forno, la cottura ovviamente sotto vuoto il peso si avvicina ai 100 kg e poi c'è un altro aspetto da non sottovalutare perché un pezzo così ingombrante deve essere trasportato a destinazione e si utilizzano degli aerei speciali che possono essere cargo oppure delle navi Sicuramente credo che siamo un po' una mosca bianca nella nautica con questo tipo di setup dopodiché noi crediamo, nascendo come realtà industriale e non come cantiere che questi siano i requisiti per poter fare gli elementi che oggi caratterizzano appunto l'America Ska per citarne uno in cui si realizzano questi foil sono talmente ottimizzati a livello di ingegneria che poi è impensabile poterli realizzarle non allo stesso livello da un punto di vista di produzione, di manufacturing quindi con processi partire dall'autoclave per la clean room che abbiamo e classe 7 per poter garantire la qualità necessaria escursione termica legata al carbonio l'equazione ci dice che prima di essere lavorato in quest'area il carbonio viene custodito a meno un grado ma prima ancora a meno 20 gradi allora siccome noi siamo estremamente curiosi Claudio mi da questa giacca che è assolutamente necessaria e sufficiente per cercare di provare a congelarci ci proviamo? Andiamo io non so quanti gradi ci siano al Polo Nord ma vi assicuro che meno 20 si sentono e non poco non vorrei essere in un foglio di carbonio che viene conservato qui è forse il caso di cambiare temperatura di andare a Porto Rotondo anche perché il nome ci aiuta Solaris parliamo del circuito Solaris Cup che ha riservato non poche emozioni al caldo però The Boat Show a Porto Rotondo per la terza edizione della Solaris Cup le barche iscritte sono 32 una passerella di tutti i modelli del cantiere friulano la più nuova è Solaris 55 l'atmosfera è quella gioiosa delle regate monomarca armatori che si riconoscono nella scelta comune e si divertono a stare assieme Solaris, Fast Cruiser sempre più facili da usare sempre più bottoni da schiacciare sì sicuramente le barche da crociera si sono molto evolute negli ultimi anni i winch elettrici hanno portato un grande vantaggio all'equipaggio soprattutto in crociera manovrare in sicurezza con il minor sforzo fisico possibile quindi un gran vantaggio anche per le armatrici o le mogli degli armatori Unica è un Solaris 42 che ha vinto la Middlesey Race con equipaggio di due persone ha vinto anche questa Solaris Cup come vi siete trovati qui a Portorotondo? è piacevole essere qui ci siamo segnati la data sul calendario abbiamo vinto la Middlesey Race due anni fa e abbiamo provato a fare il meglio per vincere questa Solaris Cup una bella sfida per noi vincere è stata la cosa migliore che potesse accadere il Solaris 42 sembra avere un po' più di velocità delle altre barche sì Solaris 42, la barca che abbiamo scelto nasce da un ottimo design abbiamo fatto un check completo e penso che sia migliore delle altre in termini di velocità siete debuttanti alla Solaris Cup ma avete la barca più nuova come vi siete trovati? molto bene è la prima volta che partecipiamo è un evento favoloso abbiamo provato e testato la barca per la prima volta ottime performance direi avevamo già esperienza con Solaris con il 48 ci eravamo trovati molto bene molte performance ottime a vela avevamo visto il 50 sapevamo che il 55 sarebbe stata un'evoluzione del 50 quindi andavamo sul sicuro che tipo di vela praticate? siamo vela amatoriale direi siamo io e mio padre e mia madre come equipaggio ci piace molto navigare facciamo lunghe distanze e volevamo una barca che fosse un fast cruiser l'italian job è la barca che arriva da più lontano alla Solaris Cup l'armatore infatti è scozzese come mai qui? è la prima volta che veniamo alla Solaris Cup ed è stato entusiasmante buone condizioni di vento bella gente ci siamo molto divertiti ci siamo davvero piaciuti la Solaris Cup 2017 si chiude con tre Solaris 42 nei primi tre posti si tratta di Unica, di Swiss Nautic 2 e di Windspiel Solaris Cup è una tradizione che si innova, un cantiere che cresce perché organizzate questa regata? ma noi vogliamo creare un family feeling tra armatori, crew e cantiere è il terzo anno che siamo qui a Porto Rotondo in un ambiente favoloso e ci stiamo divertendo tutti nella storia della marineria mondiale una delle città emblema simbolo è Southampton Glenn è proprio di Southampton coming from there coming from Southampton, yes però si trova a lavorare nelle valli bergamasche avendo a che fare con i forni, con il carbonio sono 16 anni che sono qui scommetto che hai anche una moglie italiana quasi moglie, sì cosa ti dice? come glielo racconti il tuo lavoro, no? con il carbonio, con l'America's Cup, la Volvo Ocean Race no, sto facendo questo lavoro per ormai 20 anni ho cominciato in Inghilterra da Green Marine che è una cantiere famosa poi con Green Marine sono venuto qui nel 2003 per lavorare per la seconda prova Lune rossa dopo di che conoscendo le gente in giro mi sono richiamato qui per venire a Persego nel 2005 facendo la terza coppa per Lune rossa dopo di quella ho trovato l'amore della mia vita qual è il componente legato all'America's Cup o alla Volvo Ocean Race più strano che hai creato? qui sono stati i foil sono i più complicati, i più lavorati lavorando mezzo millimetro, decimi di un millimetro molto impegnativa nella seconda metà di giugno quando i venti ispirano più forti si creano le condizioni migliori per navigare vele classiche e vele d'epoca all'insegna della bellezza e della passione per il mare dopo le Wall d'Antibes in Mediterraneo seconda tappa del Panerai Classic Yacht Challenge Argentario Sailing Week Argentario Sailing Week 18esima edizione e da 13 anni Panerai è sponsor ufficiale 43 le imbarcazioni iscritte divise in classic, epoca, big boat and spirit of tradition il mare dell'Agentario l'ho scoperto per caso perché un giorno ero in navigazione con la mia barca mi trovavo a largo di Bastia il mare si stava ingrossando e mi sono detto andiamo a ripararci verso l'isola del Giglio sono arrivato pomeriggio qua abbastanza esausto ho trovato posto e ho avuto modo di ammirare questo borgo che è un borgo che ha una sua storia che ha una storia importante una storia legata al mare una storia legata alla Toscana a ciò che esprime la Toscana e la sua prossimità anche con Firenze che più tardi poi vedremo sia legata con Aileen e con la marca Panerai Aileen ha avuto una storia avventurosa nata nel 1936, stesso anno in cui Panerai ha messo in acqua Radiomir, il primo orologio subacqueo militare della storia Aileen in galico significa piccola isola un catch bermudiano di 22 metri nato nel 1936 Aileen si sposa con Panerai in modo perfetto perché c'è una storia, una storia di valori dietro a questa imbarcazione una storia di valori che poi fanno la storia anche recente in quanto fu trovata da noi semifondata in mezzo alle mangrovie ne abbiamo visto l'opportunità di ripristinare una parte della storia della marina internazionale non solo nazionale della Scozia perché questo costruttore ha saputo dare esprimersi con delle imbarcazioni incredibili abbiamo lavorato 4 anni l'abbiamo ricostruita ed eccola qua, più splendente che mai Aileen nasce per la seconda volta nasce in modo prorompente si propone all'attenzione di tutti per la sua bellezza per la capacità con la quale è stata restaurata ed è ritornata ad essere l'imbarcazione piena di valori, di storie di un tempo Argentario Sailing Week le barche stanno per lasciare la banchina Caroli barca della marina militare del 1948 è stata di recente protagonista di un salvataggio navigare non vuol dire soltanto amore per il mare e passione ma anche sicurezza e soprattutto solidarietà il moro di Venezia 1 è un pezzo della storia della vela italiana questo esemplare è stato realizzato in legno lamellare voluto da Raul Gardini, l'ex re della chimica italiana i successivi hanno poi regatato in Coppa America e questo esemplare ha partecipato alla Fastnet del 1979 dove diverse imbarcazioni sono nafragate ha vinto poi la Panerai Classic Yacht Challenge nell'edizione del 2013 e del 2015 quando vediamo queste bellissime barche delle regine del mare non dobbiamo pensare soltanto ad un oggetto del desiderio ma al vero e proprio senso del navigare pensate che Buffeo Blanco ha percorso 50.000 miglia pari a due volte il giro del mondo il mare è un elemento mutevole un elemento che ti dà gioia, ti dà dolore ti dà preoccupazione, ti dà carica per ricostruire i tuoi pensieri in navigazione soprattutto offre degli spunti alla tua mente, alla tua voglia di riflettere che sono impareggiabili io non ho mai trovato nella mia esperienza di marinaio lo sapete mi dire un luogo in cui tu possa veramente essere te stesso e quindi godere di questa libertà che il mare ti offre oggi abbiamo una missione da compiere provare il nuovo Pershing 5X dovete sapere che i Pershing sono quelle imbarcazioni grigio metallizzate sportivissime, iper motorizzate e dotate di propulsioni di superficie che sollevano una spettacolare scia a poppa questa ha qualcosa di diverso Max, puoi mettere la telecamera sott'acqua? hanno installato i motori Volvo Penta D11 da 725 cavalli con propulsione Pod Drive IPS c'è il joystick di manovra beh però è comodo così è più facile uscire anche da un posto stretto come questo questo strumento ha diversi vantaggi oltre al fatto di manovrare con assoluta precisione e facilità ad esempio c'è il Dynamic Position che permette di tenere l'imbarcazione ferma in un determinato punto senza dover far nulla pensa da solo il sistema a controllare gli invertitori gli acceleratori per tenere la barca esattamente nel punto che avete stabilito poi c'è il Trim Assist che controlla l'assetto dinamico dell'imbarcazione anche questo, automatico e infine il Cruise Control come sulle auto per mantenere sempre la stessa velocità insomma è un Pershing diverso dagli altri sicuramente facile da manovrare anche per chi non ha una grande esperienza con le imbarcazioni visto che movimenti agili e spettacolari ora, prima di dare gas vediamo la coperta e gli interni la linea è semplicemente splendida ci sono ben quattro finestrature per murata ciascuna con l'oblò la tuga termina con le caratteristiche ali che abbiamo visto per la prima volta sul Pershing 70 e che qui sono ancora più evidenti come sempre il corrimano è doppio la battagliola sull'at esterno e il mancorrente di vetro resina lungo il fianco a Poppa c'è la spiaggetta immergibile nel garage c'è posto per un tender da 280 cm è un coupé ma osservate come si trasforma in open aprendo la vetrata di Poppa e il celino e cambiando così la funzione di queste zone i prendi sole sono due ovviamente a prua e a Poppa il pozzetto è all'insegna della convivialità con due divani e un angolo con wet bar il salone è composto da due isole relax quella accanto alla timoneria con divanetto e chasse long e quella verso Poppa con salotto fruibile anche come zona franzo ora su un 16 metri due cabine possono sembrare poche ma siete così sicuri di volere una barca da usare come un hotel? non è meglio avere una suite armatoriale come questa? massima larghezza, ampia superficie ovviamente elegante, contemporanea, di grande stile con un T4T e il bagno, manca dirlo, è un suite l'arredamento è moderno nel design e nei colori per i vostri eventuali ospiti una coppia non di più la VIP è di gran lusso su questo modello abbiamo la cucina e la dinette a centro scafo ma al posto della zona pranzo potete trovare una terza cabina con letti a castello oppure il locale per il marinaio con accesso separato dal ponte di prua salire a bordo di un Pershing è un po' come entrare in una mostra d'arredamento non sai mai cosa troverai ma sei sicuro che ci saranno delle novità e che saranno di gran gusto credo che barche come questa non siano realizzate secondo le mode ma che al contrario ispirino le tendenze cominciamo come al solito dando gas e portando l'imbarcazione in planata partono le turbine i giri salgono e l'imbarcazione si solleva in planata abbastanza rapidamente ma Pershing è famosa soprattutto per le prestazioni e allora siete pronti? via! 20 nodi, 24 nodi, 27 nodi beh, per pacco, la trazione è ottima è un po' come avere un'auto a 4 ruote motrici con il motore che trasferisce tutta la potenza alle ruote senza farle sgommare e sì, perché abbiamo 4 eliche una doppia propulsione IPS e questo è un vantaggio IPS è diventata celebre perché riesce a ottimizzare le prestazioni e i consumi e allora prendiamo qualche dato alle andature di crociera siamo a 25 nodi e il consumo in questo momento è di 190 litri ora complessivi adesso comincia ad essere un po' più Pershing mi piace perché siamo a 34 nodi e ho ancora un po' di gas lo uso tutto tolgo l'auto trim e provo a gire io i giri aumentano leggermente vediamo se il sistema invece riesce a correggere la mia manovra e a fare ancora meglio ah sì, per bacco 35 nodi di velocità massima un altro vantaggio di questo tipo di propulsione e la sua manovrabilità non soltanto in porto ma anche in navigazione guardate la costata quanto è rapida la risposta al timone è sempre comunque molto precisa curioso, sono riusciti a tenere ferma la scritta Pershing anche mentre ruota il timone abbiamo provato questa versione con 1450 cavalli e le propulsioni IPS ma il Pershing 5X è disponibile anche nella versione con due motori caterpillar da 1000 cavalli e propulsioni di superficie non vedo l'ora di provarla tecnica e tecnologia ma soprattutto tanta curiosità e la passione di chi lavora alle spalle di quello che è un mondo racing nello specifico abbiamo raccontato l'America's Cup, la Volvo Ocean Race anche il Vendeglobe e chiudiamo nello stesso punto dove abbiamo iniziato la nostra puntata di The Boat Show vale a dire nella Clean Room questo è lo stampo di un Radar Must ce l'avete presente? Focchino, vi aiutiamo noi nella parte a poppa delle imbarcazioni nello specifico ad esempio della Volvo Ocean Race c'è un supporto, uso un termine non estremamente tecnico ma rende sicuramente l'idea dove vengono posizionate tutte le antenne radar, GPS, tutti gli altri segnali anche la sicurezza quando lo vedete in navigazione con le barche in sbandata a più di 40 nodi fa un certo effetto in collaborazione con Volvo Penta Panerai Classic Yachts Challenge